Buonasera a tutte e benvenute. Io sono Paolo, creatore insieme alla mia socia Rosy del Tecnica Joel, un sistema esclusivo di taglio di capelli in grado di rendere gestibili i tuoi capelli anche a casa, da sola. E per questo motivo abbiamo scritto anche un libro, Revolution Way, con la nostra tecnica noi siamo in grado, seguendo i nostri consigli, di darti un capello facile e bello da gestire. Stasera voglio parlarvi di un argomento che riguarda tante donne. La voglia di far crescere i capelli, la voglia di avere dei capelli lunghi. Voglio i capelli lunghi. E cosa succede quando arrivano quei momenti che una desidera tanto avere dei capelli lunghi, voglio i capelli più lunghi, arriva il periodo del non look. Cosa voglio dire? In quel periodo tante donne che desiderano il capello lungo semplicemente non lo tagliano, non lo tagliano più. Non lo tagliano più perché se taglio i capelli capelli, poi non mi crescono più e in questa fase magari passano anche dei mesi con delle teste inguardabili. Fino a dove non devono gonfiarsi, non stanno a posto, mollettine, pinzette, li legano, però non ci stanno, escono i ciuffi, allora metto la pinzetta, allora faccio qua, allora faccio là. Risultato finale, come dicevo prima, il non look, il non star bene. Di solito il percorso che tante di voi intraprendono è questo. O non vanno al parrucchiere oppure, oppure vanno dal parrucchiere e le dicano una spuntatina le punte, terrorizzate in panico, voglio farli crescere e continuano ad andare in giro in maniera inguardabile, senza un'immagine, anzi con un'immagine non bella addirittura, che addirittura ha il potere di rendervi ancora, come dire, meno ordinate, ancora più disordinate. Ma non è la via corretta, non è la via corretta perché è una cosa assurda andare in giro per dei mesi senza una linea, senza un look, senza un'immagine. E allora cosa dovreste fare? Qual è la soluzione a questo problema? La soluzione a questo problema è semplice. Vi ho parlato appunto della tecnica esclusiva Joel perché? Proprio per questo motivo. La soluzione, la tecnica Joel. Alla Revolution, che è il nostro salone, che si trova a San Columbalo all'Ambro, noi siamo in grado, dopo una consulenza, di consigliarti la graduazione corretta per non perdere tempo, per cui poter tenere i tuoi capelli sempre più lunghi, ma dandoti un'immagine, ma creandoti comunque un look, che è la parte fondamentale. Non importa che lunghezza hai, che lunghezza vuoi, l'importante è che tu stia bene, stia sempre con i capelli a posto. Per cui non aspettare oltre. Prenota la tua consulenza. Ah, una piccola parentesi sulla consulenza, che è un aspetto molto importante. Alla Revolution c'è nel nostro salone. La consulenza è una parte molto, molto, molto seria, che noi dedichiamo a te per capire le tue esigenze e soprattutto capire la tua tipologia di capello. Quello che potrebbe valorizzarti e quello che necessita per renderti il capello comunque gestibile, anche in un momento dove hai deciso di farli crescere, dove c'è la famosa via di mezzo, che è la mezza misura. Chi di voi ha provato a farli crescere sa quello che sto dicendo, le mezze misure, quelle che proprio non ti valorizzano neanche un po'. Prima vi ho parlato di salone, sì, perché il nostro salone non è un negozio tanto piccolo, è un negozio di circa 120 metri, con dieci posti a sedere, per cui gli spazi sono ampi e anche in questo periodo che si parla di Covid, noi rispettiamo tutti i più rigidi protocolli. Da noi qualsiasi prodotto, qualsiasi attrezzo, scusate, non venga utilizzato, è stato igienizzato prima di passare addosso a voi o sulla vostra testa, ma questo noi lo facciamo da 30 anni. Spesso volentieri non ne parlo nelle mie dirette, perché per noi è una cosa normalissima, una cosa che era antecedente il periodo Covid e le distanze, le dimensioni del nostro negozio vi danno garanzie che anche in un momento come questo potete stare super tranquille. Vi ripeto l'indirizzo, noi siamo a San Colombano all'Ambro in via Cesare Battisti al 20 barra 1. Il nostro numero di telefono è lo 0371 89 89 00. Non esitare, prenota la tua consulenza, alza il telefono e chiamaci, ti aspettiamo. Ciao, ci vediamo mercoledì sera con una nuova diretta. Grazie, buona serata a tutti.